buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle come vedete qua in giro la location è diversa dal solito rispetto alla solita location che uso per fare i video sugli spoiler infatti se vedete non sono a casa sono in quel della toscana e non so neanche perché non mi sono ancora sentito se sentirete tutte le voci dei cinnazzi che stanno urlando in questo meraviglioso parco vedremo dopo se si sentiranno oppure no ok cominciamo allora sono appena usciti gli spoiler del capitolo 1015 come preventivato è esattamente il capitolo di apertura del volume 101 e è arrivato il momento di iniziare a parlarne ogni tanto butterò un occhio sulla mia macchina fotografica per il semplice motivo che mi sono salvato il testo sulla macchina fotografica perché non riesco a vederlo sul ovviamente sul cellulare perché sto registrando allora il capitolo 1015 si chiama catene quindi già era stato preventivato nello scorso capitolo di qualche personaggio nella fattispecie Yamato che non aveva più le sue catene ai polsi quindi molto probabilmente questo catene parlerà di Yamato parlerà della figura di Yamato il capitolo non inizia esattamente dove si era concluso la scorsa settimana come avevamo preventivato infatti essendo un capitolo di apertura praticamente il capitolo inizia con una panoramica dei combattenti alla notizia che Rufi è stato sconfitto da Kaido quindi vediamo i vari pirati della ciurma di Kaido contenti per questa sconfitta vediamo i samurai che sono invece affranti per questa sconfitta ogni tanto guardo verso il basso perché devo attivare lo schermo perché altrimenti non ci vedo una favalessa ecco qua sì e per i samurai è arrivato il momento di praticamente pensano che questo punto è inutile combattere in questo momento le armate di Kaido sono troppo forti troppo potenti per poterle contrastare la loro ultima speranza che era quella di Rufi ormai è svanita ormai lui è morto ed è finito in fondo all'acqua in fondo al mare quindi è praticamente impossibile poter fare qualcosa per ribaltare la situazione andiamo avanti vediamo Queen che praticamente se la sta vedendo con con Chopper ma l'impressione non è quella di due persone che stanno combattendo quanto piuttosto di una persona nettamente superiore Queen che sta giocando con un giocattolo un po troppo grosso infatti vediamo Queen che praticamente addenta il addenta Chopper in Monster Point quindi continua ad attaccarlo con la bocca ad attaccarlo a dentate nello stesso momento abbiamo però spero che continua dalle retrovie a rompere le scatole cioè però spero fondamentalmente sta facendo questa battaglia rompendo rompendo praticamente le scatole dalla distanza a tutti gli altri e tutti quelli che si trovano lì nei dintorni quindi cosa fa però spero lancia un nuovo attacco sempre con le sue frecce di caramello e sta per colpire Chopper quando questo attacco sta per arrivare su Chopper abbiamo l'entrata in scena di Sanji allora c'è un'immagine che è licata in questi minuti dove vediamo Sanji che fa un'entrata in scena volante con il suo aeroplanino a forma di croce sulle spalle cioè Zoro che dà un calcio a Queen oltre al calcio a Queen negli spoiler si dice che colpisce Perospero e secondo me poi non vorrei dire una sciocchezza lo scopriremo nel riassunto finale e secondo me fa un attacco che devia o blocca l'attacco di Perospero per poi colpire invece Queen per salvare il proprio compagno quindi quello che era un attacco di un certo tipo in realtà quello che secondo i primi spoiler erano due attacchi a due personaggi distinti quindi Perospero e Queen a mio modo di vedere sono un un singolo attacco a a una persona a Queen e una deviazione di un attacco poi andiamo avanti perché la scena passa a Kaido torniamo su Kaido e Kinemon non sappiamo al momento dai primi spoiler quali siano le sorti di Kinemon quindi non sappiamo se dopo l'ammazzata che si è preso sul coppone sia ancora vivo oppure no sappiamo che le sue spade sono state distrutte ma non sappiamo di preciso se e Kaido e Kaido se è monnatale se Kinemon sia ancora vivo oppure no noi abbiamo quel punto però e la scena che passa su Momonosuke Momonosuke cosa fa Momonosuke si avvicina a uno dei Marys e ne approfitta per dire a tutti quanti che Rufi in realtà è vivo la voce che ha sentito la voce potente che ha sentito nello scorso capitolo e che gli ha praticamente fatto venire il mal di testa era la voce di Rufi ma noi sappiamo che Rufi è stato salvato ma il leaker non ci ha detto chi è stato a salvare Rufi quindi sappiamo che è salvo ma non sappiamo chi lo ha salvato andiamo a questo punto alla parte finale anzi alle due parti finali del capitolo la prima parte noi vediamo Nami con il suo climatact col suo nuovo bastone climatact di Hildo che ha da un paio di saghe e da uno degli spoiler usciti si parla che si dice che in questo climatact si è formata una faccia si scopre che Zeus si è inserito all'interno di questo climatact e quindi Nami ha ottenuto quello che è il power up che tutti ci aspettavamo cioè lei con la nuvola di Big Mom quindi Zeus per poter lanciare attacchi sempre più potenti poi vediamo chi delò che combattono con Big Mom e arriviamo alla parte finale cioè la parte che viene raccontata che viene descritta nel titolo il titolo del capitolo ve lo ricordo era catene cosa succede abbiamo Yamato che incontra suo padre abbiamo Yamato che incontra Kaido e in questo incontro è Yamato ragazzi che scendo un attimo perché è un problema fare una foto con fare un video col cellulare è l'unica tua fonte di ripresa e di informazioni del cellulare praticamente Yamato si ritrova davanti a Kaido e lo chiama Kaido semplicemente Kaido magari in maniera arrabbiata Kaido la guarda e gli risponde tu mi devi chiamare padre mi devi chiamare padre Yamato non sono semplicemente Kaido sono tuo padre e lei risponde bene io sono venuta qui per spezzare anche questa catena e quindi qui si chiude il capitolo e molto probabilmente la prossima settimana vedremo il proseguire degli scontri la cosa fondamentale la cosa veramente importante sarà scoprire nel prossimo riassunto e nel capitolo chi in realtà ha salvato ruffi detto questo ragazzi vi invito a mettere like o dislike se vi è piaciuto non vi è piaciuto il video a iscrivervi al canale a mettere ad accendere la campanellina per avere tutti i nostri video disponibili quando escono e poi vi saluto perché ci sono dei cinnazzi qua vicino che sono venuti ad urlare quindi vi saluto ciao a tutti e al prossimo video che sarà quando torno dalle vacanze